Mamma mia Wea! Wea! Sempre lui! Sempre più Wea! Un giocatore straordinario! Qui ci vediamo un po' di tutta l'azione Vediamo se ci riesco, ecco qua Eh, non ve li so dire i nomi, tutto di prima Mamma mia! E finalizzazione, uno, due e tre Qui è stato spettacolare l'apporto di Wea Che arriva qui, qui e di spalle ha la palla Il portiere sta rientrando e lui lo vede E di prima Mamma mia sotto al set Ambrosini per Wea Si gira E trafigge il portiere, iscrivetevi sempre in di meno